È nei momenti di grandi trasformazioni che si devono attuare profondi cambiamenti. Ne è convinta la CISL Umbria che con oltre 200 associati tra dirigenti, delegati e ospiti si è ritrovata a Villa Montegranelli di Gubbio per l'Assemblea regionale organizzativa dal titolo Partecipazione e Territorio. Non un semplice slogan ma un vero e proprio imperativo per il sindacato che dai singoli territori vuole ripartire per metterne al centro le esigenze degli abitanti creando un sempre maggiore e più attivo coinvolgimento. Il lavoro, in particolar modo quello povero, è stato il cuore tematico dell'intero programma e della relazione del segretario generale Angelo Manzotti. Diciamo nonostante ci sia stato un trend di crescita dell'occupazione ma non c'è stato un aumento consistente per quanto riguarda il PIL quindi sta a significare che nella nostra regione registriamo sempre di più un lavoro povero. quindi questo va rafforzato, secondo noi, dalla proposta che fa la nostra organizzazione da una parte a livello nazionale rendendo strutturale il taglio del cuneo fiscale. Nella nostra regione dobbiamo lavorare tutti quanti insieme con le associazioni datoriali per aumentare la contrattazione di secondo livello rendendola detassata e quindi in modo tale da incrementare le retribuzioni già povere dei lavoratori. Il tema delle disuguaglianze lavorative per la CISL investe anche le questioni legate allo spopolamento, alla denatalità, alla fuga dei giovani, questioni che il sindacato ha chiesto di approfondire anche con la giunta regionale. Noi vogliamo avviare una seria concertazione con tutte le parti sociali per ridisegnare un nuovo modello di sviluppo della nostra regione. Dobbiamo cogliere queste opportunità che ci vengono date oggi dall'Europa che sono i fondi del PNRR e soprattutto rendere strutturale anche una politica sociale che non deve solo rincorrere le emergenze ma che deve essere strutturale e che deve comunque tenere in conto delle situazioni che comunque oggi stiamo sempre più registrando. L'Assemblea ha visto gli interventi dei rappresentanti della segreteria regionale della CISL con Riccardo Marcelli, Simona Garofano, Antonello Paccavia, Gianluca Giorgi, a concludere i lavori il segretario nazionale Giorgio Graziani che ha posto l'attenzione sulla manovra finanziaria, sulla tutela delle pensioni e sul salario minimo dopo l'approvazione del documento finale da parte del CNEL. Credo che noi ci riconosciamo ampiamente nel documento approvato, lo abbiamo condiviso, pensiamo che il ragionare non su una cifra fissa ma nel rilancio della contrattazione sia proprio la condizione centrale e base per risolvere questo problema. Certo andrebbero rinnovati a scadenza i contratti collettivi nazionali di lavoro a partire da quelli pubblici, lo Stato non è un grande datore di lavoro in questo senso perché sono scaduti i contratti e se non si rinnova una scadenza di sicuro non si dà risposta alla difesa del potere d'acquisto, al di là della cifra.